La paura è come chi ti bussa alla porta e dice dolcetto scherzetto. Tu non ti prendi paura, ma se dietro ti accortella il momento del sogno è dove puoi rendere realtà tutti i tuoi sogni, oppure tutte le tue paure. La paura è un sentimento, la paura è una parola. La paura è tanto paurosa che se la guardi in faccia, cioè la morte, vieni per terra e ormai muti, ma ogni paura ha il suo punto debole, perché ogni punto debole ha la sua paura. Ma se hai paura di tutto, allora la paura è un sintomo che ti può ravvolgere a tanto, ti può stringere e ti può uccidere. La paura è tutto. Grazie. 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 Grazie.